E noi ora attendiamo l'arrivo della batteria 2 della G1 maschile. Evito di darvi tutti quanti i nomi di questa batteria, dato che piomberanno dentro lo stadio, il ben che non si dica, tra pochissimo. Mi permetto di fare una comunicazione quest'anno, se qualcuno ha bisogno di perdere qualche chilo, cioè di mettersi in dieta, non serve che vada dal dietologo, si faccia avanti e faccia parte del comitato organizzatore del Veloce Club Borgo, che si perdono chili. Patrizio conferma? No, non conferma. Eccoli, attenzione, sono già qua, eh? Tommaso Giacomini e Martin De Carli, sono loro che si giocano la vittoria, attenzione. Tommaso Giacomini, ancora Sprint Vidor, Tommaso Giacomini, vince la batteria 2 della G1 maschile. Seconda posizione per Martin De Carli, terza posizione per Davide Bassotto. Tra poco ci comunicheranno i primi cinque classi indicati e subito correremo in premiazione. Grazie. Ancora qualche istante procederemo alla premiazione, nel frattempo si stanno già incolonnando in via Gozzer, sono velocissimi. Siamo sempre in diretta sui canali social Facebook di Pianeta Giovani, Pianeta Ciclismo. Chiediamo scusa se ogni tanto noi ci interrompiamo, ma se ci vedeste corriamo da una parte all'altra, perché è veramente una cosa non stop. Vediamo se siamo pronti per questa premiazione. Dovremmo quasi esserci, ma credo che ormai siano quasi pronti anche per la prossima partenza. Signore e signore, il momento della premiazione della top 5 della batteria 2 della G1 maschile. Saranno premiati dal presidente del Veloce Club Borgo Stefano Casagranda. Al quinto posto, Eddie Favretto Polisportiva Muside. Al quarto posto, Pietro Dei Michei Avio. Al terzo posto, Davide Bassotto, FDB. Al secondo posto, Martin De Carli, Aurora Trento. Vince la batteria 2 della G1 maschile, Tommaso Giacomina, Sprint Vidorra. Tommaso, hai paura del microfono? No, prendilo, prendilo. Fai una prova? Dimmi un ciao, così a voi. Oh, si sente, vedi che hai la voce. Allora, sei contento? Sì. Com'è stato questo arrivo? È stata una bella lotta a due, giusto? Sì. Tu hai anche fatto un bel sorpasso qua, eh? Raccontaci te, com'è andata? Ti sei divertito? Sì. A chi vuoi dedicarla, Vittoria? Alla mamma, al papà e agli allenatori. Ascolta, in bici vai bene, no? Hai fatto quante vittorie quest'anno? Non mi ricordo. Allora, molte, vero? Hai fatto parecchie, tante, sì? No, e ascolta, è a scuola o invece come te la cavi? Bene. Bene. Ce l'hai un campione preferito? Sì. Chi è? Tadej Pogacar. Eh, vanti, Tadej Pogacar. E cominciau. Ma, dato che non ti ascolta nessuno, ma ce l'hai l'amorosa? No. Ah, per fortuna, eh, no. Mi azzardo un po' dopo di solito con questa domanda, ma, ok. Vuoi dirci ancora qualcosa? No. Vai a tifare adesso? Sì. Sì?